ok ragazzi facciamo un incarico molto semplice che di solito esce fuori però magari qualcuno ancora non sa come fare dobbiamo potenziare un veicolo con pneumatici da fuoristrada e riempirlo con la benzina dobbiamo trovare una stazione di rifornimento di solito qui è più facile trovare tutto subito sotto mano quindi ai jonesi c'è una stazione quindi andiamo lì scendiamo come prima cosa vediamo se c'è qualcuno lutiamo facciamo tutto quello che dobbiamo fare dando sempre la priorità alla missione ovviamente quindi scildiamoci e poi dirigiamoci alla nostra missione prendiamo con la x la pompa e buttiamola a caricare la macchina anche se la macchina è piena fatelo lo stesso ragazzi perché così la missione ve la dà lo stesso non vi preoccupate dopo di che vedete eccolo qui il pneumatico prendiamolo portiamolo verso la macchina e glielo buttiamo direttamente addosso farà tutto in automatico ecco qui missione completata ragazzi abbiamo fatto sia il potenziamento che abbiamo rifornito il nostro veicolo per questa missione è tutto spero di esservi stato di aiuto ragazzi un mi piace se vi sono servito e al prossimo video ragazzi grazie